che cosa ha vinto lei signore allora e ora per il primo premio stiamo andando verso l'ultimo premio perché c'è un altro biglietto per la ruota che lui ha rimesso in gioco apposta per la vespa numero 41 eccolo qua bravo la vespa la vespa e il biglietto qua le vespa e il biglietto ho tornato a casa con questa dentro c'è tutto il caricabatterie il bambino è cresciuto poi dopo se hai bisogno del vespa clepti diciamo dove andare facciamo un'ultima estrazione chi la fa? aspetta vedi rica vedi? ah non vuol venire guardate a me è solo per il biglietto il numero 7 a me ne è cambiato vai hai visto? beh un applauso a tutti quanti dai un applauso va bene dai vado se dovete andare si trova 8000 sale se dovete andare ci trovano al filetto c'è fuori fate Grazie.